Grazie, arrivederci. Non stringere più la mano, se no uno dice questa qui mi mena, non ti sposa. Pensavo piacesse la stretta di mano, no? Pensavo piacesse la stretta di mano decisa. No, un po' meno, dai. Un po' meno, così. No, un po' meno, chi ti sposa più, così. Va bene, guarda che è stato un incontro fondamentale per la tua vita. Grazie a tutti.